Ciao amici e benvenuti a un altro video di Vosho Rockwain, benvenuti a un'altra mia recensione in collaborazione e questa volta sono nuovamente in collaborazione con il negozio Resolution Shop e ringrazio enormemente il proprietario Daniele per avermi prestato questa straordinaria action figure per poterla recensire qui sul mio canale. Bene, adesso iniziamo questa nuova recensione in collaborazione con Resolution Shop. Bene, come avete già visto oggi vi recensirò questa stupenda action figure di Batman, esattamente Armored Batman, direttamente dal mitico film Batman v Superman. Questa è la versione in action figure della Mafex di Armored Batman ed è stata prodotta nel 2016 dalla Mediacom Toy. Ma iniziamo subito a dare un'occhiata più nel dettaglio alla sua confezione. Allora, come vedete appunto la confezione si presenta in questa scatola, quasi classica appunto delle confezioni della Mafex, dove appunto c'è una finestra sul davanti, dove appunto già possiamo intravedere la bellezza di questa stupenda action figure. Qui vediamo appunto Batman con tutti i suoi accessori, più in basso vediamo, qui in basso a sinistra vediamo questa fotografia di questa action figure appunto di Armored Batman, sotto scritto appunto il nome Armored Batman action figure, e qui i loghi Mediacom Toy e DC Comics. Di lato nella confezione possiamo già vedere appunto il logo del film Batman v Superman, più in basso appunto il logo Mafex Armored Batman action figure, e un'altra fotografia di questa stupenda action figure. Sul retro della confezione ci vengono mostrate tre immagini in tre diverse pose di questa stupenda action figure di Batman. In alto a sinistra vediamo appunto il logo del film, accanto il logo Mafex, accanto ancora il bollino del numero di questa action figure, appunto la numero 23 per la Mafex. E qui appunto accanto scritto Armored Batman action figure. Più in basso ancora loghi appunto DC Comics, Batman v Superman, Warner Bros e altre scritte varie. Più in basso ancora vediamo il logo sempre della Mediacom Toy e altre scritte varie. Sotto la confezione leggiamo appunto tante altre scritte, codice a barre e bollino di autenticità. Ed ecco fuori dalla sua confezione questa stupenda action figure di Batman con tutti i suoi accessori. Iniziamo a vedere più nel dettaglio l'action figure. Ecco qua, iniziamo col vedere nel dettaglio il volto. Guardate appunto l'elmo, come è stato realizzato. Veramente è qualcosa di perfetto, veramente. Mi sembra veramente una mini Hot Toys. Guardate anche la parte della bocca come è stata realizzata, piena di sfumature sulla pelle, piena di chiari e di scuri. Davvero fantastico, vedete sull'elmo, sul casco, sono stati riportati appunto tutti questi graffi di questa armatura di ferro, di Batman. Gli occhi bianchi. La lateralmente, guardate come è anche ben realizzato. Davvero qualcosa di stupendo anche il retro. Ecco qua, osserviamo la parte centrale, osserviamo il busto, davvero ben realizzato. C'è appunto questa fibbia, fatta in morbida gomma. Ma guardate anche i graffi, qui come sono stati realizzati. Vedete che l'effetto qui del ferro, appunto, è stato riportato in versione lucida. Ed è davvero un effetto davvero fantastico, appunto, pur trattandosi di un action figure interamente in PVC. E veramente qui, proprio questo effetto, sembra realmente ferro. Veramente, è un effetto che la Mafex fa davvero ben realizzato. Qui, appunto, le spalline, come vedete, sono in morbida gomma, ma anche qui sono state riportate alla perfezione nei dettagli. Qui la cintura, realizzata anch'essa in morbidissima gomma. Qui, appunto, le braccia. Guardate qui. Lo scout è, devo dire, veramente un vero capolavoro, amici. Guardate le spalline. I graffi, qui, nelle spalline. Fantastico. Anche qui nell'altro braccio. Ecco qui, nella parte delle cosce. Guardate l'armatura che continua. Devo dire, l'unica cosa di estetica, che non mi piace in quest'action figure, sono, appunto, queste sfere di articolazione che uniscono, appunto, i piedi con gli stinchi delle gambe. Questa sfera, che unisce queste due parti, sinceramente la trovo orribile. Io la vedo così, amici. Dico il vero, spero che nella versione della DC Collectibles, di questa 6-section figure, non abbiano fatto questo stesso errore di articolazione. Lo spero, veramente. Comunque, per il resto, è davvero fantastica. Guardate anche, appunto, il particolare dello scout della tuta sotto l'armatura. Guardate tutto come è fatto. Veramente, troppo ben realizzato. Sul retro dell'action figure, lo scout ci viene presentato, così come vedete, un dettaglio davvero unico. Anche il sotto delle scarpe, devo dire, davvero ben realizzato. Lasciando stare le scritte varie, tipo Mediacom Toy, ma il resto dello scout è qualcosa di eccezionale. Come vedete, questa stupenda action figure è ornata da questo meraviglioso mantello, realizzato in stoffa, molto ampio e largo. Ma la bellezza reale di questo mantello è che ai laterali del mantello sono state inserite dei fili di ferro. Quindi, come potete vedere, può rendere il mantello pieghevole e può anche assumere la forma che noi desideriamo al mantello di Batman. Esempio, lo possiamo fare velocemente, una mossa. Guardate qui, che bellissimo effetto che possiamo dare. Passiamo alle articolazioni. Questa action figure ne ha davvero tante. Allora, abbiamo una articolazione a sfera sulla testa. Dove appunto la testa, è importante dire che la testa si può molto piegare in giù. E come potete notare, la testa può andare molto anche in su. Davvero, davvero un effetto molto importante per questa action figure. Altre articolazioni, appunto, abbiamo diverse articolazioni a sfera, sono quasi tutte a sfera. Abbiamo appunto che il braccio può ruotare, naturalmente è un po' impedito dallo scalp della spallina, però con uno sforzo può ruotare. Si può anche allargare. C'è giramento del bicipite, punto di snodo nei gomiti, quindi piegamento, punto di snodo a sfera sulle mani, sui polsi realmente appunto, punto di snodo a sfera nella parte del torace, punto di snodo a sfera nella vita, però c'è da dire un'altra nota un po' negativa. Che, per causa appunto di queste articolazioni a sfera, come vedete, si creano degli spazi di vuoto. Come vedete, appunto, si vede, vedete, si può intravedere la sfera all'interno con questo appunto spazio vuoto. Questo è davvero brutto, però è anche vero che questo brutto vuoto si copre benissimo appunto con la cintura. Altre articolazioni, abbiamo appunto articolazioni alle gambe, naturalmente sono anche articolazioni a sfera, quindi può andare avanti, indietro, quindi può ruotare. Abbiamo anche questa strana articolazione che appunto, in un certo senso io sono un po' ignorante nel spiegare questa specie di articolazione. Diciamo, è un po' come se le gambe, diciamo, si allungano. Naturalmente rimane questo vuoto, naturalmente questa specie di articolazione che sinceramente io trovo inutile e un po' stupida. Però, questa articolazione viene realizzata appunto per dare delle pose molto più dinamiche all'action figure. Anche se io sono del parere che troppe articolazioni sinceramente rendono più un action figure simile a un burattino, a una marionetta, che a una vera action figure. Per me, quando le action figure sono troppo esagerate, il troppo storpia, sinceramente. Comunque, possiede anche questa specie appunto di articolazione. Poi abbiamo doppio punto di snodo sulle ginocchia. Poi abbiamo questa orribile articolazione a sfera sul piede, che sinceramente a me non mi piace proprio per nulla. Davvero brutto da vedere appunto questa sfera che si vede appunto, che lega appunto lo stinco della gamba e il piede. Però, hanno realizzato questa articolazione, vabbè. Diciamo che si vede e non si vede. Insieme nel piede, appunto, c'è questa articolazione appunto quasi nella punta del piede. Non proprio nella punta, ma, diciamo, riusciamo ad alzare appunto la punta del piede. Questa stupenda action figure di Batman è fornita da tanti accessori. E quindi, il primo di questi è appunto questo bellissimo batterampino. Davvero ben realizzato. Realizzato appunto in morbida gomma, molto morbida. Poi, è fornito di un paio di mani, appunto, a palmo aperto. Ecco qua. Davvero ben realizzato. Questa è una, e questa è l'altra. E poi di un altro paio di mani, che servono appunto ad afferrare qualcosa. O in questo caso, appunto, a far impugnare il batterampino. Anche questi, i dettagli, sono qualcosa di spettacolare. Una e l'altra. Un altro accessorio molto importante presente nella confezione di questo Batman è appunto questo bellissimo piedistallo. Realizzato tutto appunto in plastica trasparente, con questa asta e questa basetta. Davvero, davvero molto importante. Ed ecco, in tutta la sua bellezza, questa stupenda action figure di Batman. Appunto, Batman Armored. Come vedete, lo possiamo mettere nelle pose che noi desideriamo. In tutte le pose che noi desideriamo. Io appunto l'ho messo in questa mossa in action. Guardate com'è bello, veramente. Qualcosa di spettacolare. E quindi, amici, questa era la mia recensione dedicata a questa stupenda action figure di Armored Batman della Mafex, alta 15 centimetri, circa. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un messaggio scritto, con un mi piace. Al prossimo video e... Ma che cosa è? Buon si prendete. Al prossimo video. Grazie a tutti